Da quando i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose, Lily Shadow è l'unica erede al trono di Genna. Lily è la protagonista di Shadow Magic, la nuova saga fantasy scritta dall'inglese Joshua Kahn. Shadow Magic è appunto un romanzo di fantasy scritto per giovani adulti. Il protagonista c'è quindi una principessa, un fuorilegge e un enorme pipistrello. Quindi è un romanzo di fantasy però raccontato dal punto di vista di quelli che tradizionalmente sarebbero i cattivi. Ma per una ragazzina di 13 anni che non ha alcuna conoscenza della magia nera, governare il regno delle ombre è impossibile. Per me il regno di Genna è come una celebrazione delle cose oscure. E in questo intendo dire che l'oscurità per me sono i limiti, i limiti che noi ci mettiamo. E riuscire ad andare oltre quei limiti significa imparare una nuova forma di saggezza, una scoperta di cose di cui prima avevamo paura e con le quali riusciamo a vincere le nostre paure. A far compagnia alla storia anche tante immagini e disegni liberamente ispirati da Lily Shadow. Credo che si possa definire quasi magico avere un altro artista che crea delle immagini in base a quello che tu hai scritto. L'artista che ha fatto le illustrazioni di questo libro è un artista straordinario. Io mi ritengo molto fortunato proprio di poter avere avuto queste illustrazioni così belle nella mia opera.